Uccide il figlio di tre anni mettendolo in lavatrice, accusato il padre, 33 anni francese, del dipartimento della Seine-Marne, arrestata anche la madre 25 anni per non aver impedito il crimine. L'uomo ha messo in moto la lavatrice con il figlio nudo dentro, avrebbe voluto punirlo per un cattivo comportamento a scuola.